Siri, stasera hai segnato il tuo primo gol in Serie A con il Verona, come ti senti? Sì, stasera hai segnato il tuo primo gol con la maglia del Verona, sei il primo giocatore del Belgio a segnare un gol in Serie A con il Verona, come ti senti? Hai risposto che è molto felice di essere il primo segnale in Serie A con la maglia del Hellas, il primo giocatore del Belgio. Hai appena arrivato qui, sei qui dal gennaio, quali sono le impressioni del team e della città? Inizio con il team, il team ha un'esperienza molto buona, tutti i ragazzi hanno una buona compatibilità, mi ha benvenuto direttamente nel team per assicurare che ho sentito buona. Come ti senti oggi sul giocatore, sono come 11 ragazzi che si tratta con l'altro, e questo è quello che vogliamo di lasciare le persone vedere. Siamo guerriero e si tratta fino al ultimo minuto. Sei arrivato a gennaio, sei nuovo, quali sono le tue impressioni a proposito della squadra e della città? E ha risposto che si trova molto bene, oggi hanno combattuto in undici per conquistare questo punto, come fossero stati undici fratelli in campo e si è integrato molto bene. Hai giocato l'ultima settimana contro l'Udinese, oggi ho visto per la prima volta il Bentegodi, il nostro stadio. Ti ha impressionato? Per sicuramente, i fanci erano meravigliosi, erano chiantati 90 minuti lunghi, è stato bello vedere, ci hanno dato un boost, ogni volta che abbiamo fatto una buona aczione, un buon giocatore, stavano scrivendo, non lo sappiano, ma ci ha dato un boost meraviglioso. sul pitch. Grazie.